Ciao a tutti carissimi amici e amiche, una live brevissima perché sto aspettando un familiare che sta per arrivare, quindi poi chiuderò quasi improvvisamente appena suona e anche l'arrivo del corriere, di due corrieri, quindi così una live soltanto per dirvi come vedete sto benissimo, ieri sera avete visto come stavano, ma io sono come la Fenice io risorgo sempre, risorgo sempre, ho detto di stare zitta i condomini sto stando dando un casino loro e niente, anzi sono molto contenta perché sapete l'hanno rimosso quel video perché un caro amico che mi segue anche su Instagram, ciao caro, che si chiama Luigi mi ha detto guarda vai su YouTube Studio e lì c'è scritto copyright a un certo punto segui le indicazioni e segnala, io sono andata lì e c'era già violazione del copyright c'era già questo video, questo video di quel canale, vuoi segnalare o no? io certo che ho segnalato, ho seguito tutta la procedura, stamattina il video non c'è più e ho anche saputo che se questo qui fa altre due violazioni allora gli levano il canale gli chiudono il canale, gli chiudono l'account, ma credo che glielo chiudano comunque a breve viste le segnalazioni, quindi continuate a segnalare andate su quel canale, andate sulla bandierina sotto le informazioni segnala utente e ci mettete se volete bullismo oppure si finge qualcun altro cioè furto d'identità si finge qualcun altro comunque anche se tutto resta così, visto che non ci sono più miei video né tanto meno foto, la gente capisce benissimo che non sono io ma poi secondo voi io mi metterai a fare 15 consulti gratis ma se proprio li voglio fare non li faccio 15 consulti gratis cioè mica sono scema, è questo proprio la derisione è per deridermi, però questa è gente che non crede nell'esoterismo perché alla fine comunque vi posso assicurare che per quanto riguarda le persone della vita al di fuori del mondo, sono state punite quelle che mi hanno fatto del male e poi se la sono presa con me cioè ma delle volte non ho fatto niente io contro di loro e è stato il karma che glielo ha fatto, credetemi e poi si arrabbiano con me, se la prendono con me per ogni cosa che gli accade perché pensano che sia stata io ma se la gente è stronza e le cose gli si torcono contro ma secondo voi, secondo voi, anche io un po' mi ci ho messa in qualche caso però voglio dire, va bene e niente, dunque volevo dire che io ho messo il canale in abbonamento da qualche settimana ma perché? Per tutelarmi a me dispiace aver messo il canale in abbonamento credetemi, molti non riescono più a vedere i miei rituali l'ho dovuto fare, credetemi l'ho dovuto fare proprio perché così sono coperti dal copyright sono coperti dal copyright perché un conto sono i meme oppure addirittura chi ha preso un 10% dei video oltre a questo signore a questa persona che aveva fatto proprio questo canale c'erano anche degli altri che però avevano preso il 10% il 20% e io non ho fatto niente contro di loro perché qualcosina si può prendere diverso invece è non soltanto il furto di identità ma prendere tutto il video è un'altra storia infatti YouTube l'ha levato l'ha rimosso il video va bene, va bene cos'altro volevo dirvi? qualche saluto poi vi ripeto sto aspettando vedete come sono elegante perché ho fatto un video un video riservato agli abbonati e niente ho messo due livelli volevo metterne uno solo si può pagare 3 euro oppure 6 euro ogni mese volevo metterne uno solo ma non riuscivo a me a quanto pare bisogna mettere per forza due livelli poi ce ne sarebbero tre ma ci mancherebbe altro il terzo livello richiedeva più soldi ancora da parte quindi non l'ho voluto e niente quindi dicevo del primo livello ci saranno rituali soft e live soft le live le faccio quando arriviamo almeno a 7-10 per ora ne ho 5 quindi aspetta ancora un po' e invece i video più hard quelli di magia nera e le live dove farò proprio dei consulti esoterici senza un centesimo in più è soltanto collaboramento consulti esoterici e leverò maledizioni allora quello è il secondo livello di 6 euro però lo farò ripeto tra persone fidate se poi qualcuno si registra quello che faccio o altro c'è il copyright e a quel punto lì posso davvero anche ricorrere all'avvocato perché mi hanno scritto degli avvocati e mi hanno detto guarda che proprio stamattina sapete alcuni avvocati che difendono anche grandi personaggi mi ha detto guarda che per quello che ti è successo questa persona qua poteva individuata doveva anche darti un corrispettivo economico ma a me sinceramente non mi va di avere a che fare con gli avvocati con tutto il rispetto per la categoria che qualche volta mi ha aiutato per altri motivi con tutto io rispetto moltissimo gli avvocati ho simpatia per loro però mettermi su youtube con quel poco che guadagno per chiamare gli avvocati non mi fare il caso ecco per quello non mi va solo per quello non che non stimi gli avvocati anzi ho una grande simpatia io stessa volevo fare giurisprudenza piuttosto che lettere poi ho scelto lettere per dirvi allora qualche saluto ciao De Etrusca ciao 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 no io più che altro per tranquillizzarvi no perché perché guardate incazzandosi uno poi si sente meglio incazzandosi dopo si sta meglio ve lo assicuro cioè mi sfogo così eh perché se teniamo tutto dentro è peggio è peggio incazzatevi incazzatevi ecco ciao ciao Federica un attimo che che c'è una persona che mi ha fatto hai fatto bene devi proteggere sì caro ma figurati alcuni non riescono ad abbonarsi perché non hanno le carte le carte prepagate o non hanno paypal ma per carità io l'ho dovuto fare guardate le avevo messi privati vi dico la verità le avevo messi privati poi un caro amico mi ha detto scusa ma perché le hai messi privati a quel punto mettili in abbonamento tanto così li vedono pochissimi l'ho fatto per quello anche se non si anche se non si iscrive nessuno a me va benissimo io vi voglio bene lo stesso anche se non si iscrive nessuno io l'avevo messi privati credetemi l'ho fatto perché così youtube mi tutela il copyright l'ho fatto per quello a me dispiace mi dispiace tanto credetemi mi dispiace tantissimo mi dispiace tanto mi hanno costretto a fare questo perché anche poi circolano profili falsi su tiktok infatti questo video che c'era ieri c'era scritto tiktok se andate a guardare c'è ancora il video che ho fatto ieri su youtube c'è scritto tiktok e anche lì non sono io non sono io sono profili falsi più di uno che sono sorti su tiktok quindi voglio dire devo devo cioè devo assolutamente tutelarmi dovevo tutelarmi in qualche modo ecco per quello non ne parliamo più io sono contenta e niente vi auguro una bellissima giornata vi faccio vedere fuori ecco sei bellissima grazie De Etrusca grazie vedete la neve si sta sciogliendo io sono contenta perché ho registrato dei bei video questa mattina alcuni riservati agli abbonati altri no avete dei lavori ancora in corso ma pazienza ma pazienza bene bene allora allora un saluto a tutti e buon pranzo a tutti perché ora si va a mangiare io oggi faccio le penne col gorgonzola e la panna allora niente quindi io vi saluto vi benedico vi benedico tutti benedico tutti coloro che stanno guardando questa diretta vi benedico tutti quanti in corpo spirito ed anima e a presto dalla vostra parte che vi vuole tantissimo bene ciao